Le attività di trasformazione digitale in atto nell'Istituto e in tutta la pubblica amministrazione ci vedono coinvolti nell'ambito di un progetto del PNRR che vede come titolare dell'iniziativa il Dipartimento della Trasformazione Digitale l'Istat come ente attuatore. In questo ambito l'Istat è chiamata a definire le semantiche delle banche dati della pubblica amministrazione nell'ambito della strategia nazionale dati che prevede lo sviluppo di due piattaforme principali la piattaforma digitale nazionale dati e il catalogo nazionale dati. In questo secondo contesto, il catalogo nazionale dati, verranno sviluppate le descrizioni semantiche delle banche dati che vengono gestite dalla singola pubblica amministrazione. L'approccio definito dalla Presidenza del Consiglio e quindi dal Dipartimento della Trasformazione Digitale prevede un approccio federato, quindi ogni amministrazione sarà titolare delle proprie banche dati ma dovrà garantire che queste banche dati siano interoperabili nell'ambito del sistema pubblico e poi anche nell'ambito del sistema privato. Che cosa si intende per interoperabilità? Di fatto la possibilità di avere uno scambio tra queste amministrazioni e quindi la possibilità di sviluppare dei servizi e services che siano trasversali alle pubbliche amministrazioni e per sviluppare questi servizi possono essere utilizzati dati sia propri della propria amministrazione che dati di altre amministrazioni. In questo contesto assumo un ruolo fondamentale non solo l'aspetto tecnologico che è già sviluppato nell'ambito dei piani triennali da Agid con tutte le linee guida che riguardano l'interoperabilità digitale nell'ambito delle pubbliche amministrazioni ma assume un ruolo molto importante anche l'interoperabilità semantica delle banche dati, cioè assegnare ad un certo concetto lo stesso significato a prescindere dalla pubblica amministrazione che lo tratta. Questo è un obiettivo del progetto che stiamo seguendo insieme al Dipartimento della trasformazione digitale e che ci ha portato anche dai primi mesi di attuazione alla definizione anche di un framework, di un modello per realizzare queste definizioni semantiche. Questo è un modello che ha due dimensioni, ha due elementi fondanti, da un lato c'è la componente tematica e quindi la conoscenza tematica delle informazioni che devono essere scritte da un punto di vista semantico e dall'altro c'è una connessione stretta con le eventuali normative vigenti. Quindi questa descrizione semantica poi porterà sicuramente dei benefici non solo dal punto di vista dell'interoperabilità come già ho detto, perché appunto avremo delle banche dati aperte a questo punto interoperabili, ma porterà anche dei benefici dalla comprensione dell'informazione, quindi nello sfruttare anche da un punto di vista informativo questi dati e quindi avere anche un approccio più data driven, utilizzando più a fondo le informazioni che sono contenute all'interno delle banche dati che vengono gestite. Ma c'è anche un terzo vantaggio derivante dalla descrizione semantica che è quello di avere degli strumenti per garantire una maggiore qualità di queste banche dati, perché avremo la maggiore conoscenza dei dati gestiti e quindi avremo la possibilità anche di capire se ci sono degli elementi da migliorare all'interno delle banche dati che stiamo gestendo. Quindi questi saranno tre elementi fondamentali che saranno a disposizione di tutta la pubblica amministrazione e non solo, come dicevo prima. Altro elemento fondamentale che vorrei sottolineare è la capacità attraverso queste descrizioni semantiche anche di poter sviluppare quindi il concetto di OneSoldi che è contenuto all'interno del CAD da molti anni e cioè il cittadino, l'impresa che entra in contatto con una pubblica amministrazione fornisce le informazioni che lo riguardano e queste informazioni sono fornite una volta sola, perché poi circolano liberamente all'interno della pubblica amministrazione ovviamente nell'ambito di servizi che sono leciti e autorizzati da normative. Quindi questo concetto di OneSoldi è fondamentale anche per dare una risposta ai cittadini e alle imprese che molto spesso si ritrovano a dover fornire le proprie informazioni n volte ogni volta che entrano in contatto con una pubblica amministrazione diversa. Quindi il tutto si inquadra nell'ambito, come dicevo prima, della strategia nazionale dati, stretta collaborazione con il Dipartimento e non solo, anche con Agile che prima ho citato, proprio perché ci sono queste dimensioni, una più legata alla interoperabilità semantica e l'altra legata alla interoperabilità digitale che devono comunque camminare di pari passo. Nel garantire questa maggiore qualità dei dati sia anche un obiettivo futuro molto importante che è quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Noi sappiamo bene che le soluzioni basate sull'intelligenza artificiale sono di qualità nel momento in cui gli algoritmi sviluppati sono algoritmi di qualità, ma anche l'addestramento è sviluppato e svolto su dati di qualità e quindi la descrizione semantica consente di avere delle informazioni e dei dataset di qualità che possono essere sicuramente abilitanti per lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale migliori. Quindi da questo punto di vista, chiudo dicendo appunto che questo volume dà degli elementi importanti sulla logica con cui possono essere definite queste semantiche, elementi che noi abbiamo sviluppato in collaborazione ovviamente insieme al Dipartimento della Trasformazione Digitale, li abbiamo anche già condivisi con varie pubbliche amministrazioni con le quali Istat è entrata in contatto, in collaborazione proprio per sviluppare le semantiche del catalogo nazionale dati. Le semantiche che stiamo sviluppando insieme alle altre pubbliche amministrazioni sono pubblicate su catalogo.gov.it. Grazie a tutti.